Siamo a Marina Romea, adesso vi facciamo vedere l'enorme campagna pubblicitaria di Mondo Convenienza che ha attaccato su tutte le macchine questo coso, questo specie di parasole questa è crollata ma non è importante anche in questa, vedete stiamo percorrendo Viale Italia e per tutta Viale Italia molte macchine, alcune evidentemente sono arrivate adesso, ma hanno questo bellissimo sponsor di Mondo Convenienza vediamo se anche andando avanti anche di qua, è vero, anche di qua si vede quella macchina lì rossa, vedete andiamo avanti, vediamo ci saranno fermati ci manca solo che l'abbiano messa nelle macchine anche là di fronte c'è, in alcune c'è in alcune si vede, è vero se qualcuno ci fa caso c'è anche nelle macchine di fronte incredibile, uno spot quasi, ecco guardate guardate quella macchina là che è girato al contrario vedete si vede chiaramente lo sponsor di Mondo Convenienza anche qui ne avrà messi delle tonnellate di questi parasoli guardate anche là avanti anche andando avanti è incredibile una campagna pubblicitaria anche la macchina avanti adesso ci passiamo mai visto una campagna pubblicitaria così spudorata per un negozio di mobili abbastanza economici anche anche questo andate qua Mondo Convenienza anche qui l'altra macchina bianca quest'altra gli attaccano proprio agli specchietti e poi rimane lì quest'altra una serie incredibile quell'altro lì quest'altro qua dietro le hanno messi delle tonnellate di queste di questi sponsor hanno riempito Marina Romeo ci manca solo che le hanno messi anche in spiaggia e poi abbiamo vabbè adesso poi arriva mentre mi spiaggia quindi lo vediamo per forza vabbè diciamo che per adesso il video lo terminiamo qua e un saluto da Marina Romeo oggi è il 14 giorno di Preferragosto